È possibile con IREN? Con IREN puoi avere internet wifi a partire da 18,99 euro al mese. Zero costi iniziali di attivazione. Capito! Nonna, ma proprio adesso? Nonna, ma proprio adesso? Nonna, ma proprio adesso? E' portato per noi in Italia, o portato e porteranno, diciamo, in calma, eccetera, eccetera. Andiamo, cominciamo! Allora, partiamo da Navoria, che tra i giochi che abbiamo scelto è quello sicuramente con i colori più pop, è in linea con il mondo di Kyle Ferry come illustrazione ed è un competitivo, dove esploreremo questi nuovi continenti emersi riportando a Navoria risorse, conoscenze o comunque informazioni sulle nuove terre emerse. Le meccaniche base sono set collection, più piazzamento su tracciato e esplorazione dei territori. Sono stringato! Bello, colorato e mi verrebbe da dire un po' con lo stile di Root. Con lo stile di Root. Che un po' caratterizza, dai, la linea. Benissimo! Allora, qui ci sono i cioccolatini e qui invece... Continuiamo sempre con cose, con lo stile di Root. Esatto! Anche se no... Defender, una delle uscite del prossimo anno, è un collaborativo, abbiamo pochi collaborativi nella nostra linea e quindi questo ci interessa moltissimo. Sono fazioni di animali che hanno risvegliato le macchine che stanno terraformando il loro bosco e stanno collaborando per fermare l'avanzata delle intelligenze artificiali. Una lotta contro l'inquinamento, praticamente. Una lotta contro l'inquinamento. È bellissimo, io l'ho provato prima, è veramente un bel prodotto. Quando uscirà questo? Questo uscirà per play. Per play. Bene. Arx. Arx. Io l'ho giocato ad Essen, è veramente un colpaccio di Cole Werle. Qua se non c'è bisogno di presentazioni... Qua non c'è bisogno di presentazioni, anzi, facciamo rapidissimi. Un gioco che mischia varie meccaniche, svariate meccaniche, ambientato nello spazio, che parte come competitivo simmetrico. Si sviluppa con delle assimetrie, ecco la prima espansione che faremo uscire insieme. E infine con la gigantesca campagna, che però non arriverà subito. E beh, ci vuole tempo prima per giocarsi quello lì. Ma soprattutto le bellissime miniature, queste sono fantastiche ragazzi. Prendetele, prendetele, prendetele. Si, usciranno questi tre insieme nel primo semestre del prossimo anno, non abbiamo ancora una data esatta, ma insomma... Bello. Veramente un bel gioco, provato ad Essen è garantito. Passiamo alla parte investigativa, che vede numerose novità questa volta. Allora, una nuova linea di investigativi che è Profiler, su cui... Oh, scusate. Una nuova linea, appunto, dicevo, che... Mischia, mescola, unisce. Sono stanchissimo. Ripartiamo. Una nuova linea, appunto, che fonde l'investigazione con gli escape game. Materiali di pregio, insomma, cartelletta, con una parte iniziale di elementi su cui investigare. A cui siamo abituati, diciamo, cioè poster, lettere, e così via. Esatto. E una serie di buste, invece, che si sbloccano tramite, appunto, meccaniche da escape game e che permettono di proseguire nelle indagini. Quindi, i contenuti digitali in questa linea sono a inizio del gioco, alla fine del gioco e nei passaggi chiave, cioè nell'apertura delle buste. Sono... per ora due. Per ora due, esatto. Saranno... lo possiamo dire, saranno... Lo possiamo dire. Saranno cinque. Cinque. Così come, diciamo, in preparazione ci sono i due nuovi hidden games che vediamo qua, e cioè l'isola dei misteri e il delitto sotto la neve. E poi, però, già pronti altri due. Altri due casi che arriveranno sempre su anno prossimo, di cui ancora non possiamo spoilerare però i titoli italiani. Non diciamo niente. Non diciamo niente. Ma, visto che è Natale... Esatto. Abbiamo un nuovo modo di investigare, sempre da hidden games, che è in formato buste misteriose. 24 per la precisione. Calendario dell'avvento, il show. Cadendo a terra, esatto. Calendario dell'avvento. Dove avremo un incarico iniziale che ci dirà quale busta aprire per prima, e ogni singola busta conduce a quella successiva. Quindi, appunto, è una vera e propria indagine in 24 capitoli, che può essere giocata in una sola serata, insomma, in un solo momento di gioco, oppure come calendario dell'avvento. E chi ci riesce a resistere? Io me ne sparo tutte in un'unica nottata. C'era un ultimo titolo, quello piccolino. Sotto sospetto. Eccolo, da treno. Esattamente. Sempre dalla linea hidden games, sono mini casi, mini casi in formato cartolina, con le persone sospettate, l'incipit del caso, le domande a cui rispondere, e un breve fumetto da cui trarre le varie informazioni. Con anche eventuali aiuti, le fasi, per cercare di risolvere i singoli capitoli. Sono otto mini capitoli tascabili. Non leggerò le soluzioni, non crediate. Va bene. Quindi grazie ad Andrea Porati e a MS Edizioni che ci ha accolto sempre una meravigliosa lounge accogliente. Grazie io gioco per lo spazio e la possibilità. E grazie a Giulia, amici che è dietro la telecamera, gli amici di Giulia. Ciao a tutti. Ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti